Le giornate d'autunno del FAI in provincia di Arezzo hanno aperto i musei di impresa. Alle nostre spalle il Museo di Aboca a Sansepolcro. All'interno dell'Aboca Museum, che si trova nel centro storico della cittadina Biturgense, è possibile effettuare un percorso storico scientifico che esalta il potere terapeutico delle erbe e tramanda la storia del millenario rapporto tra l'uomo e le piante. È stata una visita interessante. Poi io, essendo di città di Castello, che è un paese qui vicino, non avevo mai visto questo museo e quindi devo dire veramente hanno organizzato e fatto una cosa molto 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 bella e interessante. A fare da Ciceroni in queste giornate del FAI gli studenti. Attraverso queste giornate, questi due appuntamenti in modo particolare, quelle d'autunno e di primavera, c'è sempre la possibilità di vedere cose che normalmente non sono aperte, sono le occasioni più rare e più preziose. Altrimenti c'è la possibilità di conoscere anche dei luoghi o dei monumenti che crediamo di conoscere, ma che spiegati dai ragazzi delle scuole acquisiscono magari un sapore diverso, vengono presentati in maniera diversa. Il visitatore attraversa le sale con i preziosi erbari, i libri di botanica farmaceutica, gli antichi mortai, le ceramiche e le vetrerie, accompagnato dal profumo delle piante officinali. Insomma, proprio la spiegazione interessante di come nasce dal mortaio e come tutta la lavorazione delle piante e sono stata molto contenta di questa esperienza perché è stata spiegata molto bene dai ragazzi del liceo. La fitoterapia tutt'oggi è molto importante, quindi tutto quello che riguarda il naturale all'interno della farmacia è sempre molto presente. C'è chi preferisce il naturale, il fitoterapico al posto del farmaco stesso, quindi è giusto portare avanti tutto questo.